Una tragedia nella tragedia, in un momento in cui nel cuore di tutti ci sono i nostri anziani. Un uomo di 87 anni, nativo di Solesino, si è tolto la vita nella notte all'interno del centro servizio anziani di Monselice. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe avvicinato una sedia alla finestra e poi si sarebbe lasciato cadere nel vuoto. Inutili gli immediati soccorsi prestati dagli operatori presenti. Sul posto è arrivata anche l'ambulanza e i carabinieri della locale stazione. Nella struttura, da qualche settimana, si lotta contro la presenza del virus covid-19, ma niente, lasciava presagire una cosa simile e il dolore è grandissimo.